I pagamenti di Arcelor Mittal sono fermi a giugno, siamo pronti allo sciopero. Non lasciano spazio interpretazioni le parole di Giorgio Guaraglia, segretario regionale della federazione autotrasportatori italiani che ieri mattina ha incontrato una cinquantina tra le aziende associate ormai sul piede di guerra con la multinazionale dell'acciaio. L'ultima riunione con la proprietà era stata deludente, commenta. Ci hanno fatto capire che essendo un grande player internazionale presente sul mercato si ritengono liberi di affidare viaggi e vettori diversi dai nostri in modo da pagare meno. Dall'altra parte ci sono però realtà che lavorano con Exilva da 30 o più anni, che vantano crediti per centinaia di migliaia di euro anche con la precedente proprietà. Siamo pronti a fermare i servizi. Alle aziende legate alla FAI se ne aggiungono decine di altre più piccole, non iscritte all'associazione, che vivono però gli stessi problemi. Adotteremo tutte le procedure previste dalla legge, contiamo di prendere una decisione nel corso della prossima settimana, prosegue Guaraglia. Arcelor Mittal ha lasciato intendere che se non stiamo alle loro condizioni non ci verrà incontro. Per quanto riguarda gli arretrati ci hanno fatto capire che in ogni caso daranno precedenza nei pagamenti alle eventuali nuove ditte da loro scelte. Di fatto un mezzo ricatto. E la durata dello sciopero potrebbe non essere breve. Potremmo andare avanti a oltranza fino a che non ci saranno sviluppi concreti, chiosa Guaraglia. Sommata alla difficile situazione già in essere una scelta del genere, da parte dei vertici potrebbe rappresentare il colpo di grazia per tantissimi lavoratori.